ciao mitici video tutorial su come si ripiega un green screen andiamo a prendere il green screen lo alziamo e lo mettiamo così allora per maggiore chiarezza ve lo metto in questo modo in modo che avete questa cosa e questa cosa qui mettete la mano a destra del centro qui mettete la mano al di sotto di questo e lì mettete il piede ok mi dice il piede che tiene fermo sotto a questo punto prendo questa e questa e faccio così o le occhio in un cerchio sto cerchio lo butto giù la terra è fatta forse l'inquadratura era meglio leggermente più bassa mi dice allora ve la rifaccio allora così mano non al centro ma un po a destra mano non qua ma leggermente sotto piede qua che tiene fermo a questo punto ruoto questa parte qua se ne va verso il basso ok mi dici a questo punto se ne piega tutto va a colpire il centro ve lo rifaccio visto da quest'altra parte qui vedete anche questa triangolatura ok la mano non al centro ma leggermente qua la mano qua ruoto questo cerchio che sto creando in mano lo vado a sparare direttamente giù automaticamente mi si creano i tre cerchio questo è il metodo numero 1 faccio vedere il metodo numero 2 prendiamo questo molto verso di noi molto verso di noi va bene a questo punto all'incirca qua io lo prendo e lo piego a questo modo va bene all'interno questa parte sotto cala la faccio calare più che posso e fino a farla toccare terra a questo punto il braccio destra e il braccio sisto si incrociano e si crea un cerchio questo che sta su dei miei ginocchi ok sto cerchio lo rigiro così e vado giù ok mi dici quando lo posso vedere allora così piego verso l'interno piego un bel po' fino a fare i tocchi a terra a qui verso di me c'è una specie di cerchio questo qua quindi io incrocio in questo modo e si crea già divisi in tre vado giù e fatto mi dici quello che faccio vedere così e così ok mi dici ancora preso in mano in questo modo ad altezza di questo cinghia sulla mia mano sinistra ok giro quando è girato così è praticamente chiuso vado giù e recupero ok piego quando girato così vado giù e recupero lo faccio vedere da in piedi questo al centro e così mano qua mano qua piede al centro questo che ho creato me lo sparo un po' in basso diviso in tre parti va bene cari minici spero di esservi stato utile non dimenticate pollici in su ciao